Ci sarà più controllo e ci saranno più verifiche nel cimitero di Melito di Porto Salvo da parte del Comune. Ci sarà più controllo sui lavori che si effettueranno quotidianamente sui lavoratori, sulle ditte e sulla pulizia all'interno del Campo Santo. Questa mattina infatti per un sopralluogo sul posto c'era il sindaco di Melito di Porto Salvo, Giuseppe Meduri, accompagnato da alcuni consiglieri comunali e dagli operai dell'ufficio tecnico comunale che con il loro impegno e il loro lavoro riporteranno finalmente il decoro all'interno e all'esterno del cimitero. Chi non rispetta i morti non sa rispettare nemmeno i vivi, lo ha detto così Giuseppe Meduri, primo cittadino di Melito di Porto Salvo, spiegando le ragioni del sopralluogo di stamane nel cimitero della città. Tante sono state le proteste negli ultimi anni di gestione commissariale da parte dei cittadini che lamentavano alcuni disagi relativi appunto al cimitero. Questo sarà il sistema con cui opereremo in tutti i settori, ha continuato il sindaco Meduri. Faremo sopralluoghi e controlleremo che tutti i lavori nella città siano fatti nel modo più corretto perché non è giusto che i cittadini paghino ciò che di sbagliato fanno gli altri. Negli ultimi anni c'è stato troppo lassismo e soprattutto troppo abbandono sul cimitero di merito di Porto Salvo. E quando un Paese è in fase di irrimediabile declino lo si capisce soprattutto dalle piccole cose, da quelle più banali che lasciano sconcertati da quanta assurdità permette a volte a chi amministra di non avere più rispetto nemmeno per coloro che hanno lasciato questo mondo. E quando un sindaco appena eletto vuole invertire la fase di declino lo si capisce soprattutto dalle piccole cose, da quelle più banali che banali poi non sono perché l'identità di una comunità, il futuro di un popolo passa principalmente per il rispetto della memoria dei propri morti e di quelli degli altri. Più volte su segnalazioni dei cittadini che lamentavano il disagio di andare a portare un fiore ai propri cari quando trovavano poi il cimitero aperto, ci eravamo occupati dello stato di degrado in cui versava il cimitero di Merito pieno di erbacce, di sporcizie, di topi che invadevano i corridoi senza che nessuno se ne facesse carico, cumuli di rifiuti abbandonati, sporcizie, erbacce che crescevano rigogliose ai bordi di ogni viale. Si presentava così il camposanto di Merito di Porto Salvo a quanti andavano a trovare i loro defunti. Dunque un pessimo biglietto da visita è una situazione che spesso abbiamo definito vergognosa nei nostri servizi anche perché dava il senso di abbandono del luogo più sacro della città. Infatti la visione d'insieme che abbiamo più volte immortalata mostrava uno spettacolo indecoroso per qualunque area urbana, ancor di più se si tratta poi di un cimitero. Ugo Foscoli nei Sepolchi lo aveva inteso perfettamente, una società che non conserve il culto dei morti tra i suoi valori spirituali più preziosi non merita di sopravvivere. Perfino il feroce Achille che ha giurato a Ettore Morente di lasciare il suo corpo in pasto alle belve feroci finisce per piegarsi davanti alle lacrime di Priamo e restituisce al vecchio re di Troia il cadavere perché questi possa dare al figlio delle degne ossegui. Un senso di umanità che non hanno avuto quei coraggiosi commissari prefettizi che sono rimasti sordi e ciechi ad ogni stanza dei cittadini. Un esempio di come il cinismo dei vivi nei confronti dei morti possa spingersi fino a livello quasi immaginabile, un ingranaggio disumano e implacabile che non tiene conto delle persone ma solo dei numeri e della partita doppia delle entrate e delle uscite. Vedere questa mattina il nuovo sindaco di Melito e gli operai dell'ufficio tecnico del Comune iniziare dal cimitero la bonifica della città fa davvero pensare e riflettere. Un gesto semplice quello del nuovo sindaco Giuseppe Meduri che lascia a me sperare in un futuro migliore e quando un sindaco appena eletto vuole invertire la fase di declino lo si capisce soprattutto dalle piccole cose, da quelle più banali che banali poi come abbiamo detto non sono perché l'identità di una comunità, il futuro di un popolo passa principalmente per il rispetto e la memoria dei morti propri e di quelli degli altri. Bene, complimenti sindaco, ha iniziato bene, speriamo che il percorso sia sempre coerente. Grazie.